la vista non ha ancora, non l'ho vista, stanno bene comunque, stanno tutti bene vado a dare un po' d'acqua ai cani, non vi so proprio dire davvero, non ho idea, grazie signora come si sente? come va? ha avuto paura? grazie cari grazie 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 che cazzo faccio? una sponda grazie 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 a tutti.